Cari Mastermind, eccoci ad una nuova puntata dove andiamo a vedere nello specifico come si gestisce un team di sviluppo nell'ambito di una boutique del software, quindi un'azienda che sviluppa su commessa. Lo vediamo dal punto di vista proprio di gestione del team, dell'operatività, di innovazione e tanti altri aspetti. Lo vediamo dopo la sigla, ma come sempre ricordatevi di iscrivervi al DCTO Podcast e al canale YouTube Tecnologic. Mettete like e attivate le notifiche. A dopo la sigla! Oggi abbiamo un ospite molto molto interessante e anche noto, tra l'altro in tanti ambiti, perché ho tutta una serie di esperienze che poi dopo lui stesso racconterà. E parliamo in particolare con Francesco Sciuti, che sia di The Meal e anche appunto altri ruoli, ma appunto non voglio spoilerare. E parleremo in particolare del mondo delle boutique del software, quindi delle aziende che producono sostanzialmente software su commessa, che tra l'altro è un ambito in cui io stesso comunque ho esperienze da tanti anni, avendone avuto le varie nel tempo. È un ambito questo che porta tanti possibili argomenti di discussione. Venendoli dall'alto con lui, questo è anche il ruolo, lo possiamo vedere sotto i vari aspetti, quindi non solo quelli puramente tecnologici, di delivery, ma anche altri, anche più operativi, di cultura, eccetera. Tanto benvenuto Francesco, direi che ti passo direttamente la parola, così ti presenti tu stesso a chi ci sta ascoltando. Benone, intanto grazie Alex, grazie per essere qui, devo dire che sono molto contento, nonostante io sia un po' un imboscato perché non sono realmente un CTO, ma diciamo che i tanti anni e i capelli bianchi mi portano oggi a coprire un ruolo più strategico, ma con la fortuna di avere una buona conoscenza alle spalle, quindi diciamo o anche, copro anche dei ruoli che comunemente vengono associati a un CTO. Vabbè, proverò, io non sono bravissimo a presentarmi, però ci provo rapidissimamente. Francesco Sciuti, davvero oramai tanti capelli bianchi, quindi diciamo, una volta mi presentavo come giovane sviluppatore, ora, né giovane né sviluppatore, e quello che faccio è seguire giorno per giorno la mia azienda che ho con un amico e socio, e ci occupiamo appunto di sviluppare software provando a portare un po' di cultura e valore in questo mondo, poi magari ci torniamo perché questo secondo me è uno dei temi veramente scottanti. Oltre a fare questo, diciamo che mi occupo anche di altre cose che rendono la mia giornata un pizzico piena, e cioè quello che amo fare è vivere molto il mondo delle community, vivere tutta la parte tecnologica legata al mondo delle community, e quindi faccio parte di un po' di DS, sia in ambito Microsoft che in ambito Google, tra i quali ho anche ricevuto degli awards che porto con grande piacere con me, fino a che non me li tolgono, e quindi sono GDI e Microsoft MVP, e poi quello che faccio è amo parlare alle conferenze, cioè se io dovessi scegliere cosa fare esclusivamente nella vita, farei sicuramente quello, ho tornato indietro e farei il batterista, ma quella è un'altra storia ancora, e poi sono stato community manager a lungo per svariate conferenze, tra le quali Code Motion, per la quale ora invece sono ambassador, e sono anche organizer di una conferenza in Sicilia, diciamo la prima conferenza del sud Italia, a onore del vero, assieme ad un'altra in Basilicata, che è community driven, che è Coderful, che sarà quest'estate, insomma, quindi diciamo ci diamo un po' da fare, potrei anche parlarti della mia famiglia e dei miei hobby, ma mi sembrerebbe eccessivo, quindi però anche quelli, diciamo che fanno sì che la mia giornata abbia i minuti contare, direi che sono un sacco di parti in movimento, sei molto eclettico, intanto tra l'altro metteremo anche nella descrizione della puntata, chiaramente anche il link alla conferenza che stai organizzando, che ecco questo qui è molto interessante, visto anche poi dove viene organizzato, quindi dà quello di tutto il successo possibile, tra l'altro sempre rimanendo in tema conferenze, ricordo che ci segue, che abbiamo anche quest'anno per la prima volta il sito Summit, conferenza del tech management italiano, la prima di questo genere che si tiene in Italia, sitiosummit.it vi potete scrivere lì. Ok, quindi abbiamo visto già tante cose che hai fatto nel tempo e a un certo punto hai lanciato l'amuno sul discorso della cultura aziendale, ecco partirei proprio da quello, perché è uno sicuramente dei temi proprio di base, quando parliamo di team management, quindi soprattutto poi venendo anche per quanto riguarda proprio una boutique del software, questo aspetto di cultura, anche una sua visione particolare, perché in base poi anche come organizzata, un'azienda che sviluppa software su commessa, e se gestisce più progetti, o un po' più consulenza, un po' più alla, diciamo così, brutalmente anche body rental, cambia completamente anche questo tema di cultura visto anche da parte degli sviluppatori, del team, eccetera. Quindi tanto come possiamo definire proprio una cultura aziendale all'interno anche proprio della tua stessa boutique del software in generale per quella che è un'azienda sana, quindi a questo punto che sviluppa software per i propri clienti? Allora, come avevo anticipato, è un tema scottante e anche complesso, nel senso che oggi il mercato del software, detta così, sembra un po' violenta come cosa, il mercato del software, però quello che gira tutto intorno al mondo del software è veramente uno scenario che è cambiato dagli ultimi dieci anni a oggi, è cambiato veramente in maniera estrema ed è cambiato anche con alcuni giri di boe, che è inutile neanche raccontare, quello che ci ricordiamo è sicuramente il Covid, mi sembrerebbe difficile non ricordarlo, e l'altro è quello che stiamo vivendo proprio in quest'ultimo anno, date tutte le novità che stanno arrivando sull'ambito intelligenza artificiale, automazione in genere, diciamo così, e anzi generazione in genere, per essere più precisi. Quello, perché dico questa cosa? Perché è importante valutare come si è cambiato il mercato, perché io ricordo quando facevo il programmatore, io eri una figura un po' strana, eri quello che faceva un lavoro strano, che si poteva collocare solo in alcune realtà, non si capiva neanche cosa facessero, e quindi veniva visto come l'alieno. Oggi invece lo sviluppatore è una figura molto cool, a differenza del passato, cioè se fai il programmatore sei un figo, perché puoi lavorare in tutte le parti del mondo, perché puoi vivere girando il mondo, perché puoi vivere e, scusami, lavorare in realtà super blasonate. Tutto vero? Questo ha cambiato molti parametri e ha cambiato soprattutto i parametri di quello che era una volta il modo di affrontare il lavoro quotidiano rispetto a quello che è oggi. Oggi, e lo dico da colui che ha superato un po' tutte le varie fasi, quindi da sviluppatore arrivando oggi ad essere colui che prova a portare avanti una realtà in Italia, impresa non facile di suo, dove l'iniezione di una cultura aziendale per mio vedere è fondamentale. È fondamentale perché? Primo, perché la cultura aziendale è qualcosa che deve rappresentare effettivamente qual è la quotidianità dell'azienda. Che cosa intendo? Quando parliamo di cultura aziendale, spesso e volentieri andiamo a vedere quali sono, non lo so, la vision, la mission e poi ci sono i principi morali dell'azienda. Bene, spesso e volentieri, soprattutto quando le aziende si strutturano, crescono, diventano più grosse, più strutturate, più importanti, cominciano un po' ad essere più un ideale che una quotidianità. Inevitabilmente, quello che è stata la scelta mia e del mio socio è quello invece di fare, di perseguire un'altra strada, e cioè far sì che i valori e la cultura aziendale siano il cardine di quello che è la nostra quotidianità. Non ti nego, Alex, qui non facciamo i paladini, chi mi conosce sa che sono un estremo fan di Batman, ma non facciamo i cavalieri oscuri. Chiaramente, portare quotidianamente avanti una sfida di questo genere è estremamente andua. Per valori, cosa intendiamo? Li possiamo suddividere in più ambiti. Quindi sicuramente il valore, come dire, io la dico diversamente, io dico che la nostra azienda è molto human driven, cioè è molto guidata dall'essere umano, ma non perché è l'essere umano che scrive il codice, ma perché è l'essere umano che spende le sue ore qui, che sia in ufficio, sia in remoto, poco importa. Noi siamo ibridi sotto questo punto di vista, siamo remote first, però diciamo poco cambia in questa occasione. La cosa veramente importante è quindi dare valore prima di tutto all'individuo, cioè colui che, o con lei chiaramente, che ogni mattina si presenta allo stand-up meeting, speriamo col sorriso, speriamo contento di esserci, speriamo contento di voler scrivere codice. Quindi quelli sono i primi valori che possono sembrare scontati, ma che sono quelli poi più difficili da coltivare, perché la quotidianità ti mette a un sacco di sfide a riguardo. Poi se vuoi li snoccioliamo, intanto li categorizziamo. L'altro fronte è quello tecnologico, e cioè se vuoi avere dei valori, quindi portare valore in quello che fai, quindi la cultura aziendale che abbia i porti con sé dei valori, e quindi quei valori producano valore, lì la qualità di quello che viene erogato, che viene, diciamo, buildato alla fine dei giochi, deve portare a un livello di soddisfazione elevato, diciamo così. Questa cosa si può ottenere in tantissimi modi, ti ripeto, se vuoi li snoccioliamo, un altro tassello che si aggancia tra l'uno e l'altro, e che poi è veramente potrei dire il timone, ma non è così corretto, però diciamo che fa un po' da pietra angolare a tutta questa struttura, sono i clienti, cioè sono le persone con cui hai a che fare, che sono esterni alla tua realtà. Perché? Perché quelli sono quelli che tendenzialmente sono meno controllabili, controllabili in senso buono, nel senso che possano condividere i tuoi valori. Non è detto che quando un committente di qualunque genere e tipo arrivi capisca da subito, esposi da subito, qual è l'ideologia che sta da un lato dal punto di vista umano, dall'altro dal punto di vista tecnologico. Per questo dico che è un po' la pietra angolare, perché è l'elemento che può spostare gli equilibri, no? Per tante ragioni. Quindi diciamo che di base pongo questi tre come punti su cui focalizzarsi per alimentare il valore. Se poi prosegui, io se comincio a parlare non finisco più, te lo dico. No, è molto interessante, infatti anzi dicevi che sono anche quei punti da snorciolare con molto interesse. Assoluto, se vuoi io ti ripeto possiamo stare, guarda, sono tardi pomeriggio, possiamo stare fino domani mattina, nessun problema, a parte gli scherzi. Gli snorcioliamo rapidamente giusto per dare un'idea. Chiaramente dal punto di vista umano la cultura aziendale vuol dire primo far sentire la persona sempre banale ma facente parte dell'intero sistema. Questo è un qualcosa che può essere fatto in mille modi dal fare capire alla persona che stai seguendo un po' la sua natura nel senso che stai seguendo un po' e stai costruendo attorno a lui una realtà che rappresenta i suoi ideali. Quello diciamo è l'elemento più astratto ma come cose molto più quotidiane quelle di avere la possibilità di confrontarsi con tutti i propri colleghi. Noi io per scelta quando presento le persone che lavorano con me sono sempre colleghi. Non sono la persona che lavora con me sono sempre colleghi. Cioè noi siamo molto flat sotto questo punto di vista che ce lo consente di essere la nostra dimensione. Chiaramente noi siamo una ventina quindi noi ci siamo 600 e quindi è più complesso da gestire perché poi lì chiaramente la crescita è un altro un altro discorso. Quindi quello sicuramente anche dare la possibilità e schedulare e fare comprendere alle persone che lavorano con te che hanno sempre dei momenti di confronto. Io faccio un esempio noi per scelta abbiamo ogni mese un one to one con tutte le persone che lavorano con noi. Ma in note questa già è una cosa abbastanza comune che succede anche perché si ha la possibilità di valutare un po' come stanno le persone. Ad esempio noi siccome siamo remote first abbiamo istituito dei momenti che chiamiamo speed dating per dare la possibilità ai vari colleghi distribuiti in tutta l'Italia di prendersi lo slot e potersi fare due chiacchiere così perché magari non hanno avuto la possibilità negli ultimi tre mesi di lavorare su un progetto vicino e quindi possibilmente non hanno modo di chiacchierare oppure la mattina allo stand up meeting che per scelta e ribadisco anche per il numero per che siamo scegliamo la mattina sempre di fare uno stand up meeting comune in cui ci vediamo tutti è una delle cose che faccio più spesso è dire ragazzi cari colleghi la dico in maniera molto meno formale però è giusto per trasmettere il messaggio cari colleghi se avete bisogno di me mi dovete dire qualcosa io oggi ci sono cioè non ho la giornata piena se vi serve qualcosa scrivetemi il momento lo troviamo sembrano stupidaggini però queste cose quotidianamente aiutano a creare un clima molto più vicino io dico sempre che noi non siamo una famiglia assolutissima non ho mai e non userò mai il termine famiglia perché sono due cose totalmente diverse però noi siamo un ecosistema che ha voglia di condividere il tempo insieme che ha voglia di portare e produrre valori insieme e quindi con qualche piccola ricetta si riesce a portare a casa poi ovviamente attenzione e ci sono i benefit e ci sono tutte le cose più canoniche che spesso e volentieri sarò un po' forse provocatorio sono più portate dal mercato che dal bisogno di fare cultura aziendale cioè la cultura aziendale non è il buono pasto o il welfare o non saprei o il retreat quello non fa parte della cultura aziendale quelli sono dei mezzi alcuni più o meno ripeto indotti che ti danno la possibilità di rendere le persone più serene perché se tu oltre al tuo stipendio hai un budget da poter spendere per andartene in palestra è chiaro che siamo tutti più contenti così come la possibilità di costruire dei retreat un po' a misura delle persone seguendo anche un po' le esigenze e via dicendo questa è la parte ovviamente potrei dire ancora un milione di cose però proviamo ad andare andare abbastanza rapidi poi se ci spostiamo sulla parte tecnologica lì ci sono altri aspetti che fanno la cultura aziendale uno sicuramente provare a fare produrre le persone il meglio che possono cioè metterle anche in condizione di produrre quello che possono qui mi aggancio un attimino al terzo al terzo anello che è quello dei committenti non sempre i committenti ti danno vita facile perché chiaramente da un lato c'è la scadenza da un l'altro c'è magari un repentino cambio che per quanto tu possa essere agile impatta particolarmente non viene compreso e via dicendo sta di fatto che le persone devono comunque dal punto di vista tecnologico sentirsi supportate che cosa vuol dire quando si produce quotidianamente software smarchi smarchi i tuoi i tuoi task sulla board e via dicendo devi comunque sapere che quello che stai facendo è supportato dalle persone che lavorano con te al netto del pm al netto della parte commerciale al netto di tutto sai che il tuo obiettivo è produrre il miglior codice per quell'esigenza al meglio poi anche qui provare e tentare di introdurre nuove tecnologie a volte è molto sfidante come cosa perché ti faccio un esempio noi siamo particolarmente spinti sull'ambito front end no? sull'ambito front end guarda punto uno due tre almeno è uscito un framework nel frattempo mentre ho contato i tre secondi bene questo è un continuo dire ma potremmo farlo con questo potremmo farlo con quell'altro ma guarda che è uscito mentre parliamo quest'altra ancora bene questa è una sfida molto tosta perché da un lato gli sviluppatori hanno una gran voglia di provare dall'altro bisogna anche centrare la quadra quello che facciamo noi ad esempio è provare a fare tanta formazione interna noi ti faccio un esempio stupido in questo periodo stiamo facendo il corso di public speaking internamente perché io questa questo è proprio arriva dalla mia persone dalla mia volontà ma ad esempio noi proviamo a spingere molto a coinvolgere molto il team a produrre anche per l'esterno produrre anche contenuti per l'esterno lanciarsi in qualche talk anche per questo una competenza per noi è qualcosa di sfidante e poi chiaramente tutta la sfida che proprio la tecnologia in senso stretto ti porta riuscire a produrre qualcosa che sia robusto qualitativamente soddisfacente e via e via dicendo testato testabile e tutto è tutto quello che ne consegue ribadisco lavorando auto sul frontend questa cosa è diciamo guidata da due pilastri che sono react ed angular e tutto il resto che li ruota attorno bene proviamo un po' noi facciamo anche mobile quindi anche lì ti muovi sui pilastri ma poi provi a giocare la tua partita anche su altri su altri tavoli e l'ultima cosa dal punto di vista tecnico che secondo me può essere determinante che va sposata sulla cultura è che come dicevo prima bisogna produrre il miglior risultato per l'esigenza non sempre la riga di codice perfetta anche qui forse mi attirerò qualche era non sempre la linea di codice perfetta è la cosa migliore da fare possibilmente la linea di codice good enough può essere utile per lo scopo in quel momento importante non trascurare ma anche lì se stiamo facendo un giocattolo da testare al volo pensiamoci tra l'altro piccola riflessione che sto facendo in questo periodo un po' per ragazzi con cui lavoro ma anche in genere è quella di dire più volte alle persone che soffermarsi oggi sulla inezza della riga di codice è una cosa assolutamente che io ho sempre adorato poi io personalmente ho la voglia sempre di scoprire cosa succede sotto il cofano cioè a me non mi basta sapere guarda qui il binding funziona bene no però come funziona faccio un esempio in questo momento sul frontend se tutti vanno pazzi per i signal non so se qualcuno di chi ci ascolterà lo avrà sarà d'accordo bene se tutti vanno pazzi per i signal nessuno sa bene come funziona ecco io sono quello che invece deve capire come funziona perché se no non mi sta bene ma quello che volevo dire è che fermarsi oggi sulla finezza della riga è un'ottima cosa ma stiamo attenti perché non è detto che sarà il nostro futuro il nostro futuro sarà molto più probabilmente non conoscere esattamente la riga di codice da portarci a casa bensì capire come risolvere il problema ok questa è una cosa che pian piano va inserita in una cultura dal punto di vista strettamente tecnico perché non è sempre possibile immaginarlo insomma ci sa arriverà il momento in cui buona parte del codice non la scriveremo noi già avviene probabilmente stare attenti più a guardare il dito e non la luna può essere rischioso ok potrebbe tagliare fuori moltissimi moltissime persone basta a parte questa piccola parentesi ultimo fronte i clienti e lì i committenti lì possiamo entrare in un altro modo ma proverò a essere super breve in un matrimonio io non so tu sei Alex sei sposato fine faccio io le domande ma diamo ok io furbo non l'ho fatto a parte gli scherzi ci si sceglie in due che cosa vuol dire cioè mi auguro tu come ho fatto io non ho imposto nulla a nessuno no quando si scelgono i clienti la cosa più complicata da fare è scegliere i clienti giusti e non sempre succede questo è qualcosa che bisogna riuscire a trasmettere quindi come la pensi come affronterai il progetto come lo vivrai qual è il ruolo del committente che non è quello che ti dice di fare le cose e ti paga quella fa estremamente parte della cultura cioè riuscire a trovare dei clienti che abbiano chiaro e che condividano il modo in cui tu lavori in cui il tuo team è abituato a lavorare il tuo concetto di valore e di qualità che ripeto non vuol dire fare brillare ogni singola riga di codici a tutti i costi bene quello secondo me in tutto quello che ci siamo detti è la parte più difficile del lavoro anche perché a volte si scontra con l'economia di un'azienda a volte si scontra anche con non aver capito o non aver trasmesso bene e quindi ti trovi poi il sai il cagnolino che tu trovi per strada con gli occhietti tutti teneri poi arrivi a casa e ti distrugge una casa ebbè non avevi ben compreso il carattere del cane no quindi anche lì bisogna riuscire a lavorare tanto per trasmettere bene i propri valori e far sì che il committente ti trasmetta i suoi noi per questo facciamo anche dei piccoli workshop che noi chiamiamo discovery per capire un po' come funzionano i progetti che ci propongono che cosa hanno in mente come lo vogliono affrontare e via dicendo però quello può essere determinante guardi io non mi nascondo assolutamente dietro a come dire a frasi patinate né tantomeno io sono bellissimo noi proprio in questo periodo stiamo affrontando un progetto di enorme difficoltà ma tutto è perché difficoltà tecnica cioè tecnicamente non è niente di che ma dal punto di vista di sto esagerando eh attacco ai valori attacco alla salute dell'azienda è molto impattante quindi per questo questi tre aspetti sono inscindibili perché devono inevitabilmente poi probabilmente ce ne saranno anche altri a me non in questo momento sono questi quelli che mi vengono la 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 somma di questi tre elementi e la cura poi porta alla ricetta per creare probabilmente l'azienda di valore che tutti vorrebbero forse e che comunque cambia nel tempo i valori di due anni fa non sono gli stessi di oggi l'importante è non tradirli no? però poi chiaramente le evoluzioni come una persona che cresce e bimbo ha delle priorità e dei valori pian piano si evolve e poi anche quelle si adattano al momento però l'importante è essere molto onesti ecco guarda ti racconto l'ultima cosa tu dici ma questo parla sempre però ti racconto giuro l'ultima che è questa io tengo moltissimo ai feedback io ogni trimestre mando un feedback al team sulla mia persona noi non facciamo performance review ok? io la faccio su di me la performance review ed è quello che mi piacerebbe che tutti facessero in questo senso cioè io voglio sapere come mi sto comportando cioè secondo voi sto facendo bene queste cose perché se prima le faccio bene io proviamo a trasmettere il bene che stiamo provando a fare il bene nel senso di cose fatte bene ecco e proviamo a portarle agli altri ecco questo è un piccolo spunto buono no tutto è estremamente molto interessante poi soprattutto derivano anche delle esperienze che mi tornano essenzialmente avendo avuto anche io quel tipo di realtà in gestione infatti anche l'esempio dei clienti quello lì è emblematico perché si collega da una parte infatti ai valori in modo di vedere dell'azienda è effettivamente complesso trovare catturare i clienti giusti e poi mantenerli perché non sempre poi si rivelano essere esattamente in linea ecco sicuramente c'è tutto un mondo che parte dai materiali di marketing il posizionamento la comunicazione quindi in quel caso il marketing è più esclusivo che inclusivo cioè escludere tutte quelle aziende che in realtà non aderiscono a quel sistema di valori quel tipo di realtà che si voglia creare con la propria azienda di sviluppo software quindi quello già è un modo però non è sufficiente c'è tutta una catena e purtroppo capita spesso che in realtà si scopra dopo che l'azienda non è compatibile quindi capisco tante volte i progetti diventano palazzi in fiamme anche per questi motivi per quelli tecnici è una cosa che ho sperimentato anch'io negli anni poi alla volta con l'esperienza si porta anche a cambiare i propri valori dell'azienda stessa si capisce meglio come selezionarli ma non è una cosa che in assoluto si risolve quindi mi torna tutto e infatti su questo quello che ti volevo proprio chiedere era emesso in qualche punto proprio come bilanciare da questo punto di vista l'accessità proprio di da una parte comunque avere certi standard qualitativi dall'altra bilanciarlo con quelle che sono le caratteristiche e le esigenze del progetto del cliente quindi le scadenze dei costi perché è una cosa che spesso succede proprio nelle aziende che sviluppano su commessa e che magari c'è un po' di dissonanza tra quello che è l'effettiva l'esigenza il suo valore è quello che poi si vuole costruire perché magari presi anche dalla passione magari si costruisce una porta aerei quando l'esigenza è di una piccola barca ecco e questo spesso avviene ecco avviene anche molto più spesso di quello che si possa immaginare in realtà e allora faccio una dico una cosa che forse prima non l'ho detto noi per scelta non facciamo body rental cioè noi internalizziamo i nostri progetti nel senso che qualunque progetto anche di supporto tecnologico a un'altra azienda non è mai tralasciato cioè non viene mai presa la persona abbandonata di buon proseguimento ci vediamo quando finisce il contratto assolutamente no in passato abbiamo lavorato su un approccio di team augmentation ancora qualche strascigo ce lo portiamo dietro ma per progetti assolutamente di valore per volontà anche di del team ma sicuramente mi dispiace essere estremamente impopolare ma portare avanti un'azienda costruire con un approccio di questo genere cioè di provare a fare le cose bene internalizzare il progetto quindi avere giusto per capirci l'ownership di progetto quanto più dentro possibile ovviamente con tutto il rispetto per gli stakeholder però riuscire a gestire il progetto da sé è una dal punto di vista realizzativo è chiaramente una cosa stupenda dal punto di vista di far incastrare tutto a dovere è proprio un'altra storia nel senso che è chiaramente molto più complesso a me dispiace essere impopolare ma se dovessimo guardare il punto di vista strettamente produttivo chiaramente per un'azienda ora sto semplificando chiaramente per carità ma per un'azienda avere delle persone su cui fare margine giornalmente perché è posizionato lì è estremamente più facile cioè è chiaramente estremamente più facile perché il lavoro lì è trovare la persona giusta collocarla dal cliente giusto calcolare il margine ribadisco non voglio banalizzare sto solo semplificando fare un lavoro inverso invece ti porta ad avere chiaramente tanti oneri se tu mi dicessi e mi chiedessi qual è la ricetta ti direi stiamo studiando per trovarla noi ad esempio stiamo adottando dei modelli di vendita diversi che si avvicinano molto di più a questo genere di di lavoro magari provando a trasmettere ancora a monte che il nostro lavoro come unità di costo agli sprint ad esempio su questo stiamo lavorando su un modello di vendita interessante che stiamo sviluppando pian piano nell'esperienza ma diciamo che per produrre un software di valore ci vuole una vendita di valore ci vuole una parte commerciale di valore e non ti nego qui lo dico in pubblica piazza per noi è una delle sfide più grosse perché l'azienda nasce da due sviluppatori quindi il nostro approccio io di solito un sacco di brutte parole te le sto risparmiando Alex sappilo cacchio abbiamo un prodotto da fare fighissimo e quindi cominciamo lo scaffolding migliore del mondo invece perché il nostro entusiasmo parte da lì poi i conti devono quadrare chiaramente quella è la sfida più grande cioè riuscire a trovare la formula giusta a monte ancora prima che si scriva qualunque qualunque riga di codice proprio per questo lavorare sul modello di vendita e adattarlo un po' alle esigenze aziendali può essere una strada matcha sempre con i committenti no assolutamente perché è un altro elemento da riuscire a trasferire da riuscire a descrivere e da far comprendere a volte non siamo bravi a farlo e quindi a volte non funziona anche lì la sfida è assolutamente accesa ma un'ultima cosa molto importante e difficile da trasmettere anche sensibilizzare le persone che stanno lavorando sul progetto perché a volte la cultura ti porta ad avere sempre a provare a puntare sempre al risultato migliore che possiamo non è che siamo perfetti ma tutt'altro però a volte trovare la formula migliore non è sempre facile da trasferire anche con le persone con le quali stai lavorando no e quindi lì la bilancia è di nuovo da tenere con i giusti pesetti da un lato e dall'altro dei piatti no però sì sicuramente riuscire a non vendere quello che non hai non vendere quello che non puoi fare cioè avere un modello di vendita chiaro concreto io accennavo prima noi proviamo sempre ancora prima di partire con un progetto a farne una discovery cioè conoscere bene quale sia l'obiettivo che vuole raggiungere il progetto e quale siano gli attori messi in campo anche per capire come ci si dialoga come ci si confronta e capire quali sono le idee le funzionalità che vuole mettere in campo e che poi dovranno trasformarsi in codice e magari dare anche un po' una direzione anche con un po' d'esperienza al netto del dominio di sviluppo che normalmente conosce sempre il committente però riuscire anche a dare suggerimenti quella fase poi produce quello che diventa il modello di vendita cioè una valutazione che a quel punto dovrebbe essere molto più vicina alla produzione di codice no? funziona sempre no inutile dirlo però la strada ci porta ad avere più esempi positivi che esempi negativi ecco più o meno credo che sia questo il match da fare tra le due tra le due parti ecco sì sì ancora lì è una parte a sua volta molto complessa compresa questa qui che hai descritto di approccio di vendita quando hai fatto l'esempio degli sprint è uno dei possibili approcci è complesso non c'è una soluzione definitiva va creata su misura anche per quello che è il posizionamento dell'azienda ma ti seguo diverse aziende che sviluppano software proprio su questi aspetti come consulenza ogni caso è a sé stante ecco quindi non c'è una ricetta replicabile con lo stampino e quindi a questo punto ok da una parte chiaro quindi come bilanciare a questo punto qualità con entusiasmo anche con quello che hai descritto con quello che poi è la realtà del progetto e i conti che devono tornare e mi chiedo a sua volta come decidete a questo punto anche quali tecnologie adottare a parte adesso il framework che adesso nel frattempo che abbiamo parlato però anche quello effettivamente è una decisione anche perché un tema importante che un progetto realizzato sei mesi fa un anno fa non è che si può riproporre così come è stato proposto appunto qualche mese fa perché nel frattempo c'è stata evoluzione anche semplicemente aggiornare i pacchetti quando si fa install np install di un qualcosa rispetto a sei mesi fa già è cambiato quindi mi chiedevo anche qui quali come quali criteri adottati proprio per decidere questo aspetto ecco certo certo anche qui la sfida non è proprio semplice e ti dirò che al netto di quello che si possa dire poi felice di essere contraddetto dal punto di vista del front end questa questo genere di corsa contro il debito tecnico non inteso come abbiamo scritto immondizia dobbiamo recuperare ma che può succedere per carità cioè ripeto tutto sia work e perfetti ma andare dietro a quella che può essere o l'evoluzione di un singolo framework o l'evoluzione di altri player nello scenario è molto sentito dal punto di vista front end noi realizziamo applicazioni diciamo a tutto tondo però quello che ci contraddistingue è un po' il front end e questa cosa da un lato non è particolarmente difficile perché gli stack sono mediamente quelli noi siamo molto isomorfi su javascript quindi tendenzialmente consolidato quale diciamo chiamiamolo toolchain non è corretto però giusto per capirci quali pezzi node utilizzare nell'ecosistema node se vuoi scegliere nest o andare direttamente su fastify o andare su quello che vuoi però diciamo quelle node è per noi abbastanza solido dall'altro lato le scelte non sono oggi tantissime realisticamente cioè noi facciamo web application di conseguenza le scelte sono da un lato angular per l'ambito magari più industriale or virgolettato ma giusto per comprenderci forse quello un po' più enterprise poi in Italia in particolar modo dall'altro c'è tutto l'ecosistema react ad esempio con next che è quello che noi è che tutto il mondo react muove in questo momento ma anche lì l'impatto non è dei più elementari perché un next 12 a un next 14 c'è un abisso di differenze io tra l'altro non sono uno particolarmente carrozzato sul mondo react ma ne abbiamo avuto la prova anche tra angular 15 fino ad arrivare alla 17 di conseguenza centrare quali sia lo stack tutto sommato una volta che hai lavorato su quelli sono fortunatamente ancora i player più importanti sperimenti magari con qualcos'altro quando c'è l'occasione e lì è tutto sommato abbastanza robusto quello che invece è molto difficile è tentare di costruire qualcosa che ti possa consentire di scalare perché la fregatura della consulenza ripeto sto tagliando fuori tutto l'ambito body rental o come ma non è non è disprezzativo non sono così dispregiativo ecco non è dispregiativo è semplicemente un altro tipo di business e il problema della consulenza è la scalabilità nel senso che io il prodotto che realizzo è il prodotto per te è il prodotto per quell'altro e non è detto che il prossimo prodotto abbia le stesse caratteristiche quindi anche lì stiamo ad esempio noi lavorando sulla costruzione di degli scaffolding diciamo molto robusti e molto pronti a partire per abbattere delle parti di tempo per ad esempio la partenza dei progetti o consolidare ulteriormente lo stack e via dicendo quindi lì l'impatto è molto elevato ed è dettato dalla tipologia di business consulenza come dicevi tu generalizzo dicendo quello che una volta dice l'applicazione custom e dall'altro lato l'ambito che più fa da driver nel nostro caso il front end dall'altro anche le persone le skill che hanno a disposizione e quindi il team più adatto noi non abbiamo team che lavorano sia su Angular che su React abbiamo giusto qualche persona che è molto forte in una e bazzica nell'altra perché preferiamo una buona verticalità e quindi una buona conoscenza di quello che stanno facendo il problema è lo stessa cosa avviene nell'ambito mobile noi sviluppiamo esclusivamente in Flutter e React Native quindi diciamo che per noi la verticalità è dettata da framework front end stack front end stack mobile stack front end stack mobile ok normalmente React si sposa molto con React Native ma manca a dirlo però è questa la grossa sfida cioè riuscire a trovare una scalabilità in quello che si fa perché ti può aiutare a ridurre il peso della partenza di un progetto della tecnologia non più particolarmente innovativa perché nel frattempo è uscito una nuova release o un nuovo prodotto ancora e lì anche lì quello è un altro dei campi del multiverso in cui si gioca la partita no? perché noi le giochiamo su tanti campi contemporaneamente però sì credo che sia questo ecco tra l'altro a sua volta questo tema anche di l'approccio tecnologico come innovare e quindi anche come scegliere a questo punto di vista con i clienti l'approccio no? tra l'altro facevi proprio l'esempio delle aziende di consulenza che da questo punto di vista qui tra l'altro ragacciandomi anche altre cose che dicevi hanno in base al modello di business una cosa che non gli va molto in senso positivo che in realtà più si è bravi e meno si fattura in un certo senso no? parlare del riuso eccetera e quindi le aziende di consulenza se non adottano certe tematiche che poi approfondiscono in altri modi ecco hanno anche questa cosa qui però al di là di questo no? anche internamente come date a incoraggiare con il team proprio il team dell'innovazione no? quindi anche idee che magari vengono portate avanti internamente che possono aiutare c'è un qualcosa che fate nello specifico per aggiornamento innovazione ricerca sì allora quello che facciamo innanzitutto io non l'ho accennato prima ma in realtà è un'altra parte molto importante di quello che facciamo c'è la formazione sui temi che di cui ti parlavo prima la nostra è una formazione è B2B non facciamo la masterclass per capirci noi formiamo team che magari hanno bisogno di quella hanno bisogno di quella di portare dentro quella nuova tecnologia e quindi li formiamo e perché ti dico questa cosa? perché una delle cose che facciamo è seguire allora noi intanto abbiamo dei learning patti interni nel senso che proviamo a dare alle persone che lavorano qui la possibilità di crescere studiare e via dicendo abbiamo anche del budget indicato e posizionato su quell'ambito ma soprattutto quello che facciamo è fare tanta formazione interna lo accennavo prima ad esempio un un ambito non lo so dico React con le novità di Next bene siccome quello è un ambito sul cui inevitabilmente ci formiamo ci lavoriamo e e poi proviamo a formare anche gli altri ad esempio in quel caso chi si occupa della parte più formativa magari poi porta attraverso questi corsi i corsi interni che sono comunque corsi che durano ore e ore cioè non sono semplici cioè così ci vediamo e ti racconto due cose quindi è anche un bel quantitativo di tempo investito che però aiutano alle altri almeno a capire da che punto partire o magari approfondire a seconda del livello di conoscenza probabilmente se già conosci React e parliamo di Next ti servirà per fare lo step in avanti se magari non lo fai puoi fare il paragone con quale magari non hai contezza particolare di React hai modo di orientarti e quindi diciamo questo è una delle sfide poi a volte ci sono progetti che si sposano particolarmente con delle tecnologie e quindi ci prendiamo il tempo per portarle a terra per valutarle se è il caso farci aiutare produrle insomma quindi sotto questo punto di vista proviamo a investire tanto tempo per provare a formarci però come dicevi prima tu più provi a essere bravo e poi in fine dei conti più tempo devi investire e questo spesso purtroppo non viene considerato non viene valutato come tale cioè il tempo della formazione se lo può prendere carico l'azienda ma poi da qualche parte lo dovrà pure pagare lo dovrà fare pagare diciamo così quindi questo è un tema assolutamente difficile da affrontare di contro non puoi sperare che la gente dedichi solo del proprio tempo a fare queste cose attenzione dico solo il proprio tempo perché per me sono nato nel 1978 che ho avuto una gioventù immersa tra Vic 20 Comodoro 64 e via dicendo quindi diciamo me lo porto come passione prima di tutto per me lo studio non è prendo una nuova skill così mi vendo di più sul mercato ma le persone che lavorano qui devono avere prima di tutto un sacco di passione quindi non è che studia però studia a casa e noi proviamo il tempo all'azienda io so che tu studi a casa perché è una cosa che ti piace troppo quindi cioè a posto di guardare di scrollare i video su TikTok ti guardi il nuovo framework che è uscito chiaramente per questo dicevo non solo a casa perché lì la differenza tra chi fa il programmatore per lavoro e chi lo fa per passione fa la netta differenza no no assolutamente questo infatti è un altro fattore che contraddistingue in realtà come la tua è molto importante tanto si nasce sempre in quella modalità lì tra l'altro condivido anche il percorso tra Vic 20 e Copa del 64 e poi bisogna che gli espongo qua e non nell'altra stanza nella vetrina perché sono belli da vedere assolutamente certo che sì certo che sì esatto esatto allora un'altra domanda visto che abbiamo visto diverse cose della cultura aziendale il team comunque anche la parte relativa un po' ai clienti l'innovazione eccetera eccetera a questo punto quali sono un po' anche le lezioni più importanti che alla fine hai imparato proprio gestendo comunque un'azienda di sviluppo software che anche questo qui è un percorso chiaramente che non finisce mai però penso che già ad oggi ne hai viste tante quindi volevo chiederti un po' quale delle lezioni apprese che puoi trasmettere a chi ci sta ascoltando guarda quella che mi sento di dire prima di tutto è rassegnati perché questa la devo dire perdona ma rassegna perché le cazzate le farei di sicuro cioè esatto non è possibile cioè non è possibile che questo non è bene quindi mettiti il cuore in pace a monte perché cioè succederà ma anche e qui faccio un parallelismo un po' come con quello che è magari crescere un bambino io avendo due figli questo parallelismo viene abbastanza facile come un bambino e lo dicevo anche prima un'azienda cresce si evolve comincia l'adolescenza anzi prima è piccolo non sai non anche capisci quello che dice no quindi devi un po' interpretare quello che succede poi arriva un momento in cui dici ma ma guarda finalmente la situazione è ora c'ho un mio figlio che ha nove anni beh io sono ancora il suo eroe stupendo ci andiamo a giocare a pallone con la bici insieme che cosa incredibile poi arriva l'adolescenza no e quindi arriva anche l'adolescenza per le aziende e dici ma aspetta ma perché tutti i pezzi che avevo messo in ordine ora non tornano più perché le cose si evolvono quindi un po' riuscire a compartimentare a rassegnarsi a rassegnarsi in senso positivo cioè capire che le cose si evolvono le cose cambiano e via dicendo ti dirò però per dire qualcosa anche di molto più pratico a mio vedere se volete costruire oggi un'azienda di sviluppo software che poi facciate prodotto vabbè su alcune cose magari si sente ancora di più però andiamo più sul generico un'azienda secondo me deve avere le persone chiave coinvolte da subito che cosa intendo io ripeto a me piace essere sempre molto onesto intellettualmente noi abbiamo grande concetto dal punto di vista tecnico grande concetto dal punto di vista culturale perché ho lavorato anche in posti dove non stavo bene e via dicendo ma ad esempio una figura più di business development in genere o piano che passa il tempo un CFO che abbia una struttura culturale diversa è sicuramente molto importante cioè riuscire a comprendere per tempo quali sono i ruoli chiave e quando inserirli al momento giusto spesso e volentieri è molto importante perché poi bisogna affrontarle quelle cose se vuoi fare crescere la tua azienda noi per scelta abbiamo una crescita scusami molto controllata cioè noi non abbiamo assunto dieci persone perché ci è arrivato il progetto a dieci persone e poi no ci stiamo provando a crescere in maniera controllata ma le sfide ci sono per quanto tu possa controllare perché persone onniscienti io personalmente non ne conosco poi magari vedendo un po' in giro per il web ti sembra che ce ne siano ma secondo me è solo gente che si è messa a fianco persone veramente in gamba che hanno soprattutto capito nel momento giusto quando quelle figure servivano e l'ultima cosa che mi permetto di dire che è la cosa forse con cui io combatto di più e che ho più difficoltà a fare ma mi sto impegnando un sacco giuro delle gare mamma mia e si apre un mondo si apre un mondo cioè io oramai sono entrato nell'ottica che è un po' come il rassegnarsi di prima che nel momento in cui prendi la consapevolezza di delegare non ti devi aspettare la cosa che volevi tu ti devi aspettare il meglio che possa fare quell'altra persona quello deve essere il metro di giudizio non può essere io l'avrei fatta in questo modo perché se no è una battaglia persa a monte non è che crea un sacco di scompensi quindi quello per costruire secondo me è fondamentale sì sì quello è tra l'altro soprattutto chi ha una provenienza tecnica come noi è anche una delle cose più difficili da fare perché o lo posso fare solo io o faccio prima farlo io questa è un'altra un'altra grande bega sulla quale spesso ci si combatte dire vabbè però mi sbrigo a farlo prima io però valuta quante volte hai dovuto fare quella cosa tu facendola più velocemente sommala e vedrai che poi così non è esatto il tuo termine così non è si si ricollega quello che dicevi anche tu prima sull'inserimento delle persone la selezione la costruzione anche di un organigramma ecco c'è proprio un percorso da fare in questo senso qui che ormai è abbastanza schematizzato secondo le fasi di crescita la delega è fondamentale altrimenti si rimane dei bravi professionisti dei bravi tecnici che fanno impresa non imprenditori si occupano di cose hai detto una cosa saggia assolutamente questa me la questa me la conservo e me la rigiocherò in futuro sappi oltre ne dico un'altra mi fa così si è comprato un lavoro non è un imprenditore sì esattamente esattamente ma queste me le sto segnando tutte ovviamente le passerò come mie sappi va tranquillo assolutamente assolutamente tutto molto interessante tra l'altro abbiamo visto molti aspetti diciamo del presente dell'azienda abbiamo visto anche quelli relativi al passato quindi le lezioni apprese quindi come ultima cosa ti volevo chiedere invece lato futuro vediamo anche le prospettive future quali sono un po' i progetti gli obiettivi che stanno bollendo in pentola da qui ai prossimi non so tot anni come vedi l'azienda evolversi guarda ti dirò il momento secondo me è particolare per tutti nel senso che bisogna capire cosa avverrà nel prossimo futuro non perché gli sviluppatori non serviranno e via dicendo ma siamo per affrontare una nuova era tecnologica di conseguenza bisogna comprendere per tempo cosa perderemo e cosa acquisteremo di nuovo che non è secondo me ad oggi l'AI generativa in senso stretto o il Devin che si è visto qualche settimana fa o come è che AI Pin o Pin AI non so se l'hai visto e poi il prodotto finito sembra veramente tremendo poi magari io mi auguro per loro lo miglioreranno non è tanto per quello ma il futuro è particolare è senz'altro da comprendere io non ti nego che a me piacerebbe moltissimo però non è una cosa semplice affiancare una linea di prodotto a una linea di consulenza che mi rendo conto essere una cosa molto complessa e molto ardua però quello sarebbe il mio sogno attendere sicuramente quello che vogliamo fare è continuare a farci riconoscere come una un'azienda che sia affidabile un'azienda che abbia a cuore quello che stiamo facendo sempre cose stupide banali però oggi non ho avuto la prova chiacchierando con un possibile nuovo cliente ti dico che quello che proveremo è continuare cioè provare a diventare un piccolo punto di riferimento su chi ha bisogno di sviluppare codice in un determinato modo è una strada lunga sicuramente è una strada chiara no per niente perché comunque riuscire a trasmettere una cosa del genere soprattutto individuare le nicchie che possano comprendere questo genere di parole non è semplice affacciarsi all'estero possibile siamo già in grado lo stiamo capendo quindi insomma è un momento di grande transizione siamo in adolescenza ecco vedi la così siamo in adolescenza però l'obiettivo è quello di di crescere come la persona matura che ha fatto le sue sciocchezze in gioventù che però è stato sempre molto sicuro di volere fare le cose bene nonostante le cose poi in gioventù le facciamo tutti le cose che non vanno fatte poi però hai capito qual è il momento in cui fermarti e andare a diventare un ometto nel mio caso quindi ti dirò sì di continuare a provare la strada del punto di riferimento tu dici il boutique del software è un termine che io uso in realtà qui lo odiano questo termine non piace per niente però qua siamo io e tu e lo dico è quello cioè farsi riconosce per coloro che sviluppano il tuo prodotto in un certo modo magari spostarsi anche più su un ambito perché noi ora copriamo molto dal design al deploy diciamo alla delivery ma spostarsi anche un po' sulla valutazione di product design quindi un passo più indietro e poi fatta cappello a tutto il resto è anche una delle cose possibili tutto ciò vedendo che cosa succederà nei mesi che verranno e capire un po' come si muove il mercato anche perché anche il mercato secondo me ne sta un po' risentendo cioè vedo un po' di sguardi che dicono aspetta mi fermo un attimo tento di capire cosa sta succedendo secondo me è una cosa che su più livelli sta succedendo insomma sì sì infatti sentendo anche molte altre aziende soprattutto in ambiti tipo questo qui ecco molte effettivamente stanno soffrendo parecchio in tanti modi ecco a maggior ragione è necessario agire in certe direzioni e fare una serie di ragionamenti strategici proprio che riguardano posizionamento modello operativo sono tanti ecco ho un programma dedicato proprio su questo è una roba molto complessa e molte aziende purtroppo alcune stanno anche proprio schiattando ecco detto certo ne subiscono il colpo no ma non ho dubbi anche perché sai inutile no ma manco ti dico sai cioè è proprio scontato noi comunque affrontiamo una una tipologia di azienda che è bellissimo sia human driven ma l'essere l'unità lavorativa proprio usiamo un termine proprio brutto è quello che è un costo maggiore per un'azienda quindi quando vediamo tutto tutte le aziende che soffrono per un sovrastapping fatto precedentemente perché si è andato un po' a a rastrellare tutto quello che si poteva cercando risorse a destra e a manca è chiaro che in un modo in un altro oggi su più misure più livelli un po' la soffrono e quindi sì poi voglio fare l'italiano di noi altri però un'azienda una PMI in Italia soffre di suo cioè nasce per soffrire esatto la PMI è quanto di più vicino al masochismo esista dal punto di vista diciamo lavorativo essere imprenditore in una PMI è veramente veramente in Italia complesso veramente estremamente estremamente poi non si ha il budget delle grandi aziende che ci possono permettere grandi errori ma anche la competizione cioè proprio sul mercato no ma ti dirò differenziamo anche brutto da dire però la concorrenza dal punto di vista di possibilità di offerte verso gli sviluppatori ad esempio oramai trido e ritrido dall'altro però dico che molto noto la voglia di alcune aziende noi lavoriamo molto tech to tech nel senso che i nostri clienti sono spesso già clienti tecnologici che devono sviluppare una nuova parte di prodotto ad esempio noto moltissimo che molte aziende stanno virando su realtà più piccole ma affidabili e questa secondo me deve essere una buona dose di una buona iniezione di fiducia sotto questo fronte e anche lì la partita è apertissima insomma sì sicuramente avremo modo di vedere nei prossimi mesi come evolverà il mercato su questo poi tra l'altro facciamo anche spesso ricerche di mercato anche all'interno della community che molti sono committenti di aziende di questo genere quindi lo vediamo da entrambi i versi sicuramente i movimenti sono tanti vedremo le evoluzioni ecco su questo senza condubbio intanto Francesco ti ringrazio tantissimo per tutti questi belli approfondimenti abbiamo visto veramente tanti aspetti riferiti alla tua realtà la tua esperienza e di come in generale si conduce quindi un'azienda che opera in questo tipo di mercato peraltro ecco visto anche il tema mi viene anche in mente che proprio su aziende di questa realtà di questo tipo che hanno determinati problematiche esigenze di crescita abbiamo con Accelerant il suo ecosistema c'è un programma chiamato Intellitech basta andare su intellitech.it per riettare in questo senso qui sotto diversi aspetti e direi che a questo punto abbiamo veramente sviscerato sbriati argomenti poi sarebbe bello anche magari in futuro aggiornarsi vedere anche l'evoluzione anche della tua realtà portare anche altri argomenti invito sicuramente chi ci sta ascoltando a commentare questo contenuto a dire la propria magari anche voi se state gestendo aziende di sviluppo software commessa eccetera eccetera dite qual è la vostra esperienza lo potete fare all'interno della community commentando su youtube nel blog sui social dove volete tanto pubblichiamo sempre questi contenuti in tanti canali quindi grazie di nuovo Francesco grazie a voi è stato un grande piacere anche io aspetto la prossima grazie davvero grazie a te a prestissimo a presto